Cristian Zamboni dello Zena Allora ho visto un primo tempo nel quale avete attaccato il Feigino e potevate forse fare di più nel secondo tempo il Feigino con un 1-2 è andato sul 2-1 e poteva fare anche il terzo gol voi vi siete difesi e siete riusciti a fare il 2-2 e alla fine forse potevate vincere la partita volevo un commento, grazie Sì, siamo partiti bene, siamo andati subito in vantaggio di solito abbiamo qualche problema di testa bisogna vedere come iniziamo le partite abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato scarichi il secondo tempo probabilmente e loro sono andati subito sul 2-1 poi fino all'ultimo potevamo anche addirittura vincere perché di condizione siamo messi bene praticamente e quindi dobbiamo un pochino migliorare su questa cosa qua quando iniziamo la partita sia all'inizio del primo tempo che quando riprendiamo il secondo tempo ho visto, se non sbaglio, che è la quinta partita utile consecutiva nella quale fate dei punti e vi siete portati adesso nelle zone play-off ci credete? Sì, abbiamo un periodo di partite che facciamo risultato e non perdiamo però crederci io direi di continuare tranquilli giochiamo tranquilli, cerchiamo di ottenere i punti che possiamo e poi alla fine vediamo dove siamo e tiriamo le somme tranquillamente Ok, Cristian, bocca al lupo per le prossime partite grazie per l'intervista Ciao